130 evasori totali scoperti, un buco da 183 milioni, 173 invece lavoratori in nero individuati ed oltre un chilo di droga sequestrata. Questi alcuni dei dati che emergono dal bilancio delle fiamme gialle e aretine che hanno svolto quasi 500 tra verifiche e controlli nell'ultimo anno. Un'intensa attività ripercorsa in occasione delle celebrazioni del 245esimo anniversario della fondazione del corpo celebrato nella caserma del Buono. Le quasi 500 attività ispettive hanno portato in totale a 73 denunce, tre delitti più diffusi, l'omessa o l'infedele dichiarazione nonché la dichiarazione fraudolenta ed infine l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Fondamentali sono state le misure più incisive a garanzia del credito erariale con l'applicazione sempre più frequente del sequestro per equivalente di beni mobili e di immobili agli evasori che ammontano ad oltre 32 milioni di euro a fronte dei poco più di 38 segnalati all'autorità giudiziaria. Sul fronte dell'economia sommersa sono stati scoperti 130 tra evasori totali e paratotali responsabili di avere evaso oltre 183 milioni nel settore delle imposte dirette e 52 in quello dell'IVA. 173 invece i lavoratori nero irregolari scoperti con 29 sospensioni delle attività, lotta anche alle frodi e alle distrazioni illecite di denaro pubblico. 71 le persone segnalate con oltre 3 milioni di euro di danni erariali accertati. Nelle indagini svolte nei settori dei reati societari, fallimentari, truffa, associazione a delinquere, reati bancari, riciclaggio ed autoriciclaggio, sono stati 85 soggetti denunciati di cui 10 in stato di arresto con oltre 59 milioni di euro segnalati come riciclaggio. Di questi 25 sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Le fiamme gialle nell'ultimo anno hanno infine sequestrato circa 1,2 kg tra cocaina, hashish e marijuana, segnalato 53 persone ed è arrestato 6 pusher.